Ragazzuoli e benessi ormai avete capito? Sono ritornata qua sul canale! Yeee! Siete contenti? Spero di sì! Oggi ragazzi sono qua con una super super novità! Guardate, se io qua spengo la luce, guardate, vi faccio vedere Mi è stata regalata dalla nonna Giovanna questa pallina qua, guardate che cambia colore Non so voi dalla telecamera quanto potete riuscire a vedere il cambiamento di colore Ma regà, veramente, è una figata pazzesca! E che dire, se vi è piaciuta lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina Mi raccomando, dobbiamo arrivare a 27 iscritti! Ciao!